Ho una sola domanda, non risposta. Voglio un sì o un no, non la lascio. Renzi perde e se ne va e lascia la politica. Lei lascia la politica o no? Eh sì. Perché ovviamente è un lavoro che abbiamo fatto insieme e quindi ci assumiamo insieme le responsabilità di un progetto politico nel quale abbiamo creduto e lavorato per tanto tempo. Mi sembra una breve risposta, una buona risposta.